diretta se ho capito aspettando sempre con questo buon lunedì santo buona pasquetta a tutti voi buongiorno amici aspettiamo che si colleghi qualcuno oggi sono un pochettino influenzato che ieri abbiamo fatto una grigliata di pasqua in giardino e ho preso un pochettino di freschetto oggi andremo a fare per voi la salsiccia guardate che bella salsiccia salsiccia fresca con finocchi e senza salsiccia al sugo e patate per la vostra pasquetta aspetto un pochettino che si aggiungono alcuni amici e andrò a spiegare allora per fare la salsiccia con sugo e patate nel cesto di patate che già ho pelato delle cipolle carote e sedaro naturalmente della buona salsiccia fresca queste salsiccia di maiale e vitello al 60 per cento maiale 40 vitello metà l'ho presa al finocchietto in metà naturale poi io vado a utilizzare della passata di pomodoro della del pomodoro a quadrattini quello che si usano per la pizza e del concentrato di pomodoro poi naturalmente serve del peperoncino piccante delle spezie del roso marino dell'olio extravergine d'oliva questo è olio della macina di galbo delle olive di fuscotoni di franco guardate buonissimo olio arrivato da sciara poi anche l'origolo è di sciara anche se vedete qua la scritta beni ma all'interno c'è l'origolo originale di sciara necessita anche del basilico e delle foglie di alloro tutto andremo a prepararlo in questa splendida pentola grande perciò amici per la diretta aspetto qualche minuto così siamo un pochettino in tanti intanto comincio a salutare ad alessandro nasca e tutta la famiglia nasca un abbraccio di cuore a johnny siracusa e a francesco serraino un abbraccio anche a carmelo sostanza e a daniele città maurizio collisi grazie di esserci a assuntina giuliano un abbraccio anche a te a chiara a chiara francesco e a tutta la famiglia chiara samuele chiavetta rosi andolina e nicola cirone ok amici io penso che potremmo iniziare sta bellissima diretta allora amici buona pasquetta a tutti spero che questa diretta vi piaccia sto per andare a realizzare la salsiccia a sugo e patate un abbraccio un saluto a tutti voi dalla germania saluto a tutta l'italia famiglia e amici che mi seguono anche dall'america buona diretta a tutti da giacomino pensaci tu allora per prima cosa prendete sempre un asse una base mettendo uno straccio di questo unito per evitare che si sposti prima di tutto inizierò accendiamo il fuoco e metto nella pentola dell'olio extravergine di oliva questo è olio della famiglia fusco fusco tonico l'ha venduto 8 euro al litro direttamente dalla dalle olive di sciacca prezzo da minuto allora si prendono le cipolle e si tagliano a pettine quando tagliate le cipolle o qualsiasi cosa ricordate sempre che le dita devono essere messe all'indietro per evitare di tagliare e tenendo così la roba ferma e non vi taglierete e cioè ricordate sempre di mettere la mano in questo modo dita all'indietro e così potete tagliare tranquillamente tutto senza che vi tagliate spero che avete passato una bellissima pasqua in famiglia ieri c'era bel tempo anche io sono stato in campagna ho un piccolo giardino ho figliato con la famiglia oggi il tempo non permette e siamo rimasti a casa in italia anche oggi sono che c'è cattivo tempo ma speriamo che dio ci aiuti almeno che ci faccia fare una grigliata e poi magari che piove non fa niente qua siamo ancora un pochettino con il lock down in germania però si può uscire tranquillamente naturalmente aggiuntosato nella mascherina e non facendo assemblaggi allora tagliate la cipolla in questo modo pensatela nella toccola e poi ho pulito già del sedo l'ho tolto delle parti lo vado a tagliare anche in questo modo vedete ricordatevi sempre di tenere le dita all'indietro ovviamente li tagliate e tagliate il sedo a strisciolina al montello come meglio preferito stiamo per realizzare la salsiccia a sugo con patate sedano e carote a modo mio un saluto a tutto sciara a tutto cedda a tutto panebolo a tutta la sicilia in particolare comunque il mio paese io sono di sciara saluto sciara tutti gli amici paesani e parenti che ci stanno seguendo poi prendo la carota ma lo vado a tagliare anche in questo modo anche questo è facoltativo ognuno la taglia come meglio vuole e lo vado a tagliare anche in questo modo e lo vado a prestare e lo prendo insieme al sedolo e cipolla vedete vado un bel soffritto aiutando a girare per evitare che sia fatti il tutto a questo punto misco anche tre foglie di alloro andrò a tirare anche in questo modo e andrò a … e andrò a … guardate che credo ragazzi quando è fresca si può anche madri di a lungo questo sarà un altro andrò a rotolare anche la tortiscia vedete lo taglio H14, come diceva la schiaffera Questa è quella al finocchietto, vediamo, buonissima Il colorevo viene a prendere le voglie, viene a salgia, non si sa male Allora, se vuoi, è la pizza, è il colpito, dovete nascere? Vai, vai Non c'è il colpito E lo vedete? Allora, adesso sto facendo il grosso ala, la salcista, insieme a cera, la roda e le cipolle Nel frattempo, vado a tagliarmi le patate Io la patata la taglio a metà e poi la vado a tagliare al tocco, così Le patate comunque le andrò ad aggiungere dopo, non le resto Prendete la patata, tagliatela a metà e tagliatela a piccola Se è così piccola, lo metterà a tre, se è più grande, lo metterà a qualsiasi Ho fatto un'altra patata che l'ha già pelata Ho fatto un'altra patata che l'ha già pelata Ho fatto un'altra patata che l'ha già pelata Ho fatto un po' di tempo E l'angolo lo metto da qua Nel frattempo, giro la talsiccia Adicine per qui Vedete? Ho giustato con l'angolo Quando la talsiccia sarà ben rosolata Andrò a sfumare con un pochettino di vino bianco Poi andrò ad aggiungere Concentrato di pomodoro Normalmente tanti fanno la talsiccia in sugo Direttamente con concentrato di pomodoro e acqua Non è sbagliato Ma a me comunque piace aggiungere Tenere una passata di pomodoro Per dare un pochettino di cremosità al sugo E vado ad aggiungere anche, vedete I pomodori, questi a quadrattine Che normalmente succede per la pizza Per dare un pochettino di freschezza al nostro sugo Andrò ad unire il rosomarino Se l'avete fresco meglio ancora Io non ce l'ho, quel pepe nero E se avete voglia anche del pepe roncino L'oricolo Questo oricolo che viene da sciara Anche se qui vedete che c'è scritto peli E del basilico A questo punto che La talsiccia, diciamo, è ben dorata Vado a sfumare con un po' di vino bianco Vedete, io intanto pulisco qua La prima cosa quando finite Quando finite il lavoro Ricordate sempre di pulire Gli utenti del lavoro Pulitele subito Almeno Non fate grascia Avere comunque gli utenti del lavoro Sempre puliti E' una cosa molto importante La cucina E' la vostra base di lavoro E' la vostra base di lavoro Vedete? Ordine e pulizia è la prima cosa Allora A questo punto Che il vino sta sfumando Vado ad aggiungere il concentrato di pomodoro Il mio modo per Versare congelato il pomodoro Senza fare sprechi E' come Facete finta che Sia un Tubetto Da Dentificio da lente Vedete, vedete Si piega in questo modo Farò vedere Vedete Si piega In questo modo Vedete In questo modo Non fate aria E non ci saranno sprechi Vedete Questo è il miglior modo Per Non sprecare Nulla Eventualmente Lo potete anche Se non utilizzare tutto Quanto del tappo Lo potete utilizzare In questo modo Vedete Utilizzo tutto Quello che c'è all'interno Alla fine pensate In questo modo Vedete Et voilà Giacomino Pensaci tu Vado a unire Il nostro Il nostro Comodoro Anche a pezzettine E la nostra Passata di Comodoro E ora Unire Unite pure Un mezzo litro di acqua Vedete Et voilà Troppo a questo punto andrò a girare per unire il concentrato di pomodoro insieme all'acqua la polpa il tutto andremo ad unire il nostro basilico fresco il rosmarino dicono che si sente male si vede anche malissimo rosmarino pepe nero petroncino del sale la dolce si è un mezzo cucchiare di zucchero mario salvatore dice il pomodoro a pezzettini sarebbe il pelato si o il pelato oppure il pomodoro quello per pizza quello a quadrattini tagliato non è il pelato ma va bene anche il pelato faccio vedere diciamo che è questo ma va bene anche il pelato anche i pelati vanno bene a questo punto andrò vanno a unire anche le patate e aspettiamo che si cucina il tutto ok amici vi ho fatto vedere come si va come vado a cucinare la salsiccia con sugo e patate spero che comunque la ricetta sia facile e che l'avete a fare ora praticamente ho tagliato le cipolle le carote il sedano facendo rosolare con dell'olio extravergine di oliva ho aggiunto delle foglie di alloro poi subito dopo che ho fatto rosolare la cipolla abbondante ho unito la salsiccia la salsiccia l'ho fatta anche rosolare ho unito comunque metà salsiccia di quella naturale e metà quella al finocchio poi dopo che ho fatto rosolare la salsiccia l'ho fatta sfumare con un pochettino di vino bianco quando il vino sarà evaporato e sfumato sono andato a unire del concentrato di pomodoro della passata di pomodoro e come variante dei pomodori quelli a pezzettini quelli che si usano normalmente per le pizze eventualmente vanno bene anche i pelati come ho già detto ho unito del basilico del sale, pepe, peperoncino un pochettino di rosa marino basilico fresco un cucchiaio di zucchero e adesso sto lasciando cucinare il tutto spero comunque che passate una serena pasquetta tutti in famiglia vi voglio bene tutti e vi ringrazio di esserci saluto comunque gli amici che vedo in linea tra cui a Nicola Cilincione a Rosi Andolina un saluto anche a Samuel Chiavetta a Chiara Francesco tutta la famiglia Chiara a Suntina Giuliano un abbraccio ciao Suntina ti voglio bene a Maurizio Collosi a Daniele Città a Carmelo Sostanza un saluto a te e tutta la tua famiglia a Rita Muscarella buongiorno fratellino sei grande ciao amore anche tu sei grandissima ai miei amici e nonché anche parenti Alessandro Nasca tutta la famiglia Nasca vi voglio bene vi abbraccio vi saluto salutemi anche a Rosalia alla mamma Alessandro non dimenticare un abbraccio anche a Johnny Siracusa a Francesco Serraino tutta la famiglia Serraino vi voglio bene vi stimo un abbraccio a Francesco Serraino l'ho salutato a Anna Lococo ciao la famiglia Lococo saluto anche tutta la famiglia Lococo di Cefalù tantissimi auguri a te famiglia grazie Anna Pina Palazzolo Pina Palazzo scusate dico sempre Palazzolo perché ho l'avvocato mio che si chiama Palazzolo e confondo a Pina Palazzo con il mio avvocato ma Palazzo non devo dare niente all'avvocato si non devo dare niente salute allora la famiglia Palazzo buongiorno Giacomo Pensacettù rubriche detto e così da Piero Busetta ciao Piero Busetta un abbraccio ti saluto a Gino a Gino Bascone grazie di esserci a Venturella Antonino leggo male da lontano un abbraccio a Vincenzo Bellina ciao Vincenzo Bellina un abbraccio a te e a tutta la tua splendida famiglia buongiorno e buona Pasquetta buon pranzo grazie Vincenzo a Maria Salvatore Conte tutta la famiglia vi abbraccio e vi saluto un saluto anche a Diego Scalia grandissimo chef grandissimo cuoco ciao Diego Anna Maria Lobello lo saluto anche a Anna Lobello e famiglia Anna Nasca ciao Anna ti ho salutato ti ho detto saluto a Fabio Carlucci un abbraccio un abbraccio e vi saluto anche a te Alessandro Vinci grazie di esserci a Salvatore Fabricini grazie anche a te video in diretta Salvatore Fabricini oh Max tu buona Pasquetta FILE DANKE Salvatore un famiglia Liba cruce alloite in Deutschland buona Pasquetta anche a voi Frohe Osten un Fabio Carlucci a Giuseppe Tascone ciao Tascone saluto a te tutta la famiglia a Francesco Castellino a Giuseppe Tascone l'abbiamo salutato a Jacques Rosonero ciao Jacques un abbraccio a te a tutto Palermo forza Palermo a Gabriella Patti ciao Gabriella un abbraccio anche a tutta la tua famiglia a Fabio Carlucci a Nicola Mendola ciao Nicola a Augusto Lombardi grazie di esserci a Maria Salvatrice Conte buona Pasqua a te tutta la tua famiglia il pomodoro a pezzettini sarebbe il pelato io ho risposto il pomodoro a pezzettini sarebbe quello a pezzettini quello per pizza però anche il pelato Maria va benissimo Francesco Bondi una saluta a te a tutta la famiglia Bondi un abbraccio a Emanuele Mannino Avario da Londra ciao compadre ti saluto e ti abbraccio grazie che ci sei in diretta a Fabio Carlucci a Maria Salvatore Conti Antonella Sasso tutta la famiglia Sato vi saluto a Francesco Pintacol Pintacota grazie a Salvatore Gioia un abbraccio a Salvatore alla zia Rosalia Ribene ciao zia saluto anche Paola un abbraccio a te a Tutto Prato buona Pasquetta dice Paola aggiunge a Gina Loduca grazie di esserci a Fabio Carlucci a Fabio Carlucci Giuseppe Dascone ammazzati se tu avessi solamente 12% di pulizia che abbiamo noi fareste a Masterchef invece fai lo sciacqualatuc e buona Pasqua che è Fabio Carlucci non capisco non capisco questo nesso comunque Fabio Carlucci è Pasquetta Giuseppe Dascone che cosa hai scritto non ho scritto non ho letto quello che hai scritto comunque un abbraccio a Giuseppe Dascone e a Fabio Carlucci buona Pasqua buona Pasquetta Angelo Angela 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 ti saluto anche a te a Maria Salvatore Conti ciao e buona giornata ciao a Manuele Mannino a Giuseppe Dascone Gretano di Pasquale prendi la ricetta rigetto da dazzo c'è un dibattito fra Giuseppe Dascone e Gretano di Pasquale amici miei vero che siamo Giacomino pensaci tutti tenete curiosità vero grazie stanno giocando stanno Fabio Carlucci si vede che avete la stessa scuola Thomas Gaglio ti sta guardando ciao Thomas Gaglio un abbraccio un saluto a te famiglia Fabio Carlucci ti saluto a Vincenzo Randazzo ti saluto Gina lo duca Giancrasso ti saluto a Gietano di Pasquale ti saluto saluto alla famiglia Fusco sia di Shara che di Ludeshafen che sta qui in Germania saluto anche alla famiglia Guagliata un abbraccio a Mario Guagliata a Francesco la ricetta comunque che sta cucinando questa è la salsiccia al sugo e patate che è già iniziato a bollire ho fatto un soffritto di cipolla sedone e carote ho fatto sfumare con del vino bianco la salsiccia e poi sono andato a unire il sugo di pomodoro i pomodori a pezzetti e del concentrato di pomodoro spero che comunque la ricetta vi è piaciuta un abbraccio a tutti voi da Giacomino pensaci tu ok amici un abbraccio da Heideberg un saluto a tutti voi vi aspetto alla prossima diretta di cucina spero che non vi ha annoiato e che comunque mi aiutate a crescere la pagina condividete la pagina di Giacomino pensaci tu con gli amici mettete un mi piace sulla pagina facebook di Giacomino pensaci tu e se mi volete comunque aiutare invitate i vostri amici ad iscriversi al gruppo di Giacomino pensaci tu diretta di cucina un abbraccio a tutti voi un saluto a tutta la mia famiglia a 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 sulla statale di Lascari per le vostre pizze e per le vostre arancine andate dal re Uccio dal re delle arancine nonché il rosticciere Piero fate le vostre ordinazioni direttamente al cellulare e ci aiutate comunque la famiglia Muscarella ad andare avanti il re Wind vi aspetta sulla stradale di Lascari per le vostre ordinazioni un saluto a tutta la famiglia Muscarella a mia mamma ti voglio bene ciao a Tommaso Caglio ciao a Carlucci a Giuseppe Tascone a Vincenzo Randazzo ciao ti saluto a Giuseppe Tascone a tutti voi da Giacomino Pensaci Tu buona Pasquetta a tutti ciao